Il mondo rischia un Armageddon, l'allarme del presidente americano Biden in merito alle minacce russe, dell'uso dell'atomica, l'Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati, rilancia da Praga la presidente dell'Europarlamento Roberta Mezzola. Le crisi internazionali hanno causato la migrazione di 280 milioni di persone nel mondo, i numeri sono in aumento, oltre 5 milioni quelli residenti in Italia, il 30% sono musulmani da Caritas e Fondazione Migrantes, il rapporto 2022 è il tema Costruire il futuro con i migranti. Il 7 ottobre 2006 veniva uccisa Anna Politoskaya, la giornalista russa che denunciava l'affermazione di Putin e il fallimento delle speranze democratiche della Russia post-sovietica fu uccisa nel giorno del 53esimo compleanno di Vladimir Putin che oggi compie 70 anni. Buongiorno, dal TG2000 occorre inviare armi pesanti e carri armati all'Ucraina, dirlo, lo avete sentito nei nostri titoli, Roberta Mezzola, presidente del Parlamento europeo, parlando con i cronisti prima del vertice informale di Praga, dichiarazioni che seguono quelle del presidente americano Biden che punta il dito verso Mosca e parla di un Armageddon nucleare. Alessio Arlandi. L'Europa risponde all'escalation di Mosca. La richiesta di un ulteriore supporto militare arriva dalla presidente del Parlamento europeo, Mezzola, che chiede agli stati membri di fornire carri armati e armi pesanti a Kiev. Una richiesta che si lega all'avvertimento, mai così chiaro e preciso, arrivato da oltreatlantico. Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c'è la minaccia di un'apocalisse nucleare, le parole del presidente americano Biden durante un evento elettorale. L'inquilino della Casa Bianca ha invitato a non sottovalutare Putin quando parla del possibile uso di armi atomiche perché ha specificato il suo esercito in difficoltà e l'uomo forte del Cremlino ha bisogno di una via d'uscita che gli consenta di non perdere la faccia e il potere. Smorza ai toni il segretario di Stato americano. Siamo pronti a risolvere la guerra attraverso la diplomazia quando Mosca dimostrerà seriamente di voler fare altrettanto, ha detto Blinken. Gli Stati Uniti evitino ogni altro coinvolgimento nel conflitto, la risposta dell'omologo russo Lavrov. Sul terreno l'esercito di Mosca Nafan nel Donbass, secondo le autorità ucraine, i militari russi stanno cercando di mantenere i territori conquistati e di contrattaccare est. Dopo il bombardamento russo di ieri che ha fatto salire a 11 le vittime, nella notte Zaporizh è stata nuovamente colpita con droni kamikaze. Nel frattempo va avanti la controffensiva di Kiev che è riuscita a liberare 400 chilometri quadrati di territorio a Kherson dove, denunciano oggi i russi, almeno 5 persone sono morte e altrettante ferite in un attacco ucraino a un ponte. Intanto prosegue il flusso dei rifugiati dall'Ucraina, sono quasi 14 milioni i cittadini che hanno lasciato il paese. E' la difficile situazione dei migranti al centro del nuovo rapporto di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes presentato questa mattina a Roma. Ci colleghiamo allora con Leonardo Possati per capire che cosa emerge dal dossier. Buongiorno Leonardo. Buongiorno Letizia, sì come dicevi tu siamo nella sede di Caritas a Roma dove in questo momento stanno presentando il 31esimo rapporto Caritas Migrantes dal titolo quest'anno costruire il futuro con i migranti. Tema questo scelto da Papa Francesco per la 108esima giornata mondiale del migrante che è stata celebrata il 25 settembre. I dati di quest'anno sono particolarmente interessanti tra i quali spicca sicuramente una ripresa della popolazione straniera che lo scorso anno invece aveva segnato un decremento, un decremento molto probabilmente dovuto anche alla pandemia e alla difficoltà per tante persone che non conoscono caso mai bene la lingua, che hanno delle difficoltà ad ambientarsi in Italia, ad accedere ai servizi e alla sanità. Ma prima di andare a vedere i numeri del rapporto abbiamo raccolto l'opinione, il commento a questi numeri, a questi dati di Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. Possiamo sentirlo. Il rapporto che viene presentato oggi mette in luce come i migranti siano sempre più una risorsa per il nostro Paese. Sono una risorsa proprio perché portatori non solo di nuove energie ma di nuove culture. Lo sviluppo di una civiltà si crea sempre nell'incontro con persone che portatori di valori, di visioni, di possibilità, di energie diverse. Sono un'opportunità per noi, sono un'opportunità perché noi possiamo cambiare e costruire un futuro nuovo. Non si tratta semplicemente, e già per noi è decisivo, quello di accogliere un fratello che chiede una vita migliore dentro il nostro mondo. Ma si tratta di cogliere il significato dell'incontro, della cultura dell'incontro, dell'arte dell'incontro, come lo chiama il Papa, come possibilità di cambiare, di costruire nuovi percorsi. Ciascun uomo è portatore di una ricchezza e tutti i dati dicono che di questa ricchezza noi abbiamo bisogno. Dicevamo i numeri. I numeri ci raccontano che le persone straniere residenti in Italia sono oltre 5 milioni, alle quali si aggiungono oltre 4 milioni di persone che hanno il permesso di soggiorno. In grande maggioranza si tratta di una popolazione giovane, in particolare la maggior parte sono romeni, albanesi, tanti ucraini, ma sono molti i paesi che sono rappresentati da queste persone che vivono e che stanno in Italia. Per la prima volta viene registrato un decremento della presenza scolastica, era dall'83 che era invece in aumento costante la presenza di alunni stranieri nelle classi italiane. Quest'anno per la prima volta c'è un decremento. Malgrado questo si tratta di una popolazione giovane, molto giovane rispetto alla popolazione italiana, come sottolinea Manuela De Marco, una delle curatrici del rapporto. Qui abbiamo raccolto il suo parere su questo argomento e al termine la linea può tornare allo studio. Lo studio di quest'anno si incentra anche un po' sulla composizione anagrafica di questa compagine di cittadini stranieri. Riflette sul fatto di quanto sia una compagine molto giovane, molto più giovane di quella degli italiani. Rispetto alla fascia d'età dei 65 anni, tra la popolazione straniera circa 3 o 4 minori ogni 65 anni, mentre per gli italiani neanche uno, 0,5 rispetto a un 65 anni. Per cui è un potenziale che noi invitiamo sempre a essere preso in carico e promosso da tutti gli interventi politici e sociali. La questione energia ha occhi puntati sul vertice dell'Unione Europea a Praga. Ursula von der Leyen ha sottolineato che è arrivato il tempo di limitare i picchi nei prezzi dell'energia e la manipolazione operata da Putin per la Presidente della Commissione. Resta importante inoltre il level playing field, cioè la possibilità delle aziende di ogni paese di partecipare al mercato unico con equità. Firmato intanto il decreto per il risparmio energetico in Italia che prevede la riduzione di un'ora nel periodo di accensione degli impianti e del periodo di funzionamento nella stagione invernale che viene accorciato di 15 giorni. Barbara Masulli. Il decreto è firmato e ora gli italiani dovranno seguire le regole, anche se, salvo caso di controlli a campione, il rispetto di queste norme è legato più che altro al buon senso dei cittadini. Parliamo del provvedimento firmato dal Ministro della Transizione Ecologica Cingolani che impone restrizioni all'uso dei riscaldamenti in vista dei mesi più freddi in arrivo. Il periodo di funzionamento si riduce per tutti di 15 giorni. Vuol dire che gli impianti verranno accesi otto giorni dopo rispetto a quanto avveniva finora e in primavera spenti una settimana prima. Le date ovviamente non sono le stesse in tutto il paese. Il calendario è suddiviso in sei diverse zone climatiche. Ecco alcuni esempi. Nella zona E, che include Milano, Torino e Bologna, anziché il 15 ottobre i termosifoni si accenderanno il 22. A Roma e Firenze, in zona D, bisognerà aspettare fino all'8 novembre. Gli ultimi in ordine cronologico saranno i residenti delle zone A e B, quindi chi abita nelle isole e nelle aree costiere meridionali, che dovranno temporeggiare fino all'immacolata. Inoltre, gli impianti dovranno rimanere in funzione un'ora e meno al giorno e anche la temperatura di massima dovrà diminuire. Per le attività industriali e artigianali non oltre i 17 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli appartamenti non più di 19 gradi, con la stessa tolleranza. Esentati dalle nuove regole ospedali, case di cura e asili, secondo le stime dell'Enea, in questo modo l'Italia risparmierà 2,7 miliardi di metri cubi di gas. L'Unione Europea invierà una missione civile in Armenia per aiutare a definire le frontiere con la Zerba e già l'obiettivo è costruire un rapporto di fiducia tra i due paesi in guerra dal 2020. L'annuncio a Praga, dopo un vertice A4, la missione inizierà a ottobre e avranno durata massima di due mesi. Ed è stato assegnato a Oslo il premio Nobel per la pace all'attivista bielorusso Aless Bialiaschia, all'Organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all'Associazione per i diritti umani Ucraina Center for Civil Liberties. Organizzazioni snelle, torniamo in Italia, età media tra i 15 e i 17 anni, una forte propensione a delinquere. Il quadro tracciato dal rapporto sulle baby gang di Transcrime, il cerco di ricerca universitaria di cui fanno parte la Cattolica di Milano e gli Atenei di Bologna e Perugia. David Murcia. Guardate bene queste immagini, siamo a Milano, alcuni ragazzini si avvicinano ad un immigrato e lo gambizzano. È solo l'ennesimo episodio del fenomeno delle baby gang che ultimamente sta prendendo piede in tutta Italia. Orde di ragazzi pronti alla rissa per passatempo per regolare i conti. L'ultimo episodio riguarda i trapper, baby gang e Simba Larou che sono stati arrestati ieri sera sempre a Milano in relazione ad un'aggressione a colpi d'arma da fuoco avvenuta lo scorso luglio. Ma chi sono questi gruppi? Come nascono? A fotografarne le caratteristiche sono i ricercatori di Transcrime, centro di ricerca sulla criminalità trasnazionale delle Università Cattolica di Milano, Alma Mater di Bologna e di Perugia, che insieme alla Direzione Centrale della Polizia e al Dipartimento di Giustizia Minorile hanno dato vita alla prima mappatura delle gang in Italia. Secondo gli esperti, questi gruppi sono senza capi, sono composti principalmente da italiani e si accaniscono contro i coetanei. Per gli studiosi è il disagio sociale il loro collante, vanno in cerca di una identità. Secondo la ricerca, le baby gang sono attive in quasi tutte le regioni italiane, sono composte da meno di dieci individui, in prevalenza maschi e con un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. I crimini che più spesso vengono attribuiti loro sono reati violenti come risse, percosse e lesioni, atti di bullismo, disturbo della quiete pubblica e atti vandalici. Le vittime più frequenti di questi gruppi sono altri giovani tra i 14 e i 18 anni. La pandemia, dopo il rapido aumento dei contagi dell'ultima settimana, restano stabili nuovi positivi. Nelle 24 ore, 44 mila contro i 45 mila del giorno precedente, il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità rileva oggi la crescita dell'incidenza con 441 contagi su 100 mila abitanti contro i 325. Di sette giorni fa il tasso di occupazione in terapia intensiva sale all'1,8%, dall'1,4% quello in area medica passa dal 6% all'8,2%. Il 7 ottobre del 2006 veniva uccisa Anna Politosca, ieri era anche il giorno del compleanno di Vladimir Putin che proprio oggi compie 70 anni. Pierluigi Vito. 7 ottobre 1952 nasceva a San Pietroburgo Vladimir Putin, cittadino sovietico, futuro novello czar di tutte le Russie. 7 ottobre 2006 moriva Mosca a Napolitoscavia, giornalista uccisa per il suo lavoro di denuncia dei crimini del regime putiniano. Gli articoli sulla Novaya Gazeta, i libri tradotti all'estero, i reportaggi accurati, in particolare dalla guerra in Cecenia, che raccontavano al mondo cosa succedeva nella Russia di Putin, costituirono la sua condanna a morte. Se oggi siamo a ricordarla, se oggi i suoi libri ripubblicati da Adelphi sono in testa alle classifiche, è perché lei non era solo una giornalista che raccontava la verità, lei diceva questo è semplicemente il mio mestiere, scrivere quello che vedo, ma era una donna animata da un grandissimo amore, amore per le persone, se lei pensava di poterne aiutare solo una, soltanto andava avanti. Gary Kasparov, ex campione di scacchi e ora attivista russo, ha detto la Russia diventerà un paese normale quando il 7 ottobre, invece di festeggiare il compleanno di Vladimir Putin, onorerà la memoria di Anna Politoskaya. Questa profezia ancora non si è avverata a 16 anni dal suo barbaro omicidio. Un omicidio per cui sono stati condannati come esecutori due malavitosi ceceni, ma nessuna sentenza parla dei mandanti. Intanto Vladimir Putin, che oggi compie 70 anni, vive la stagione più difficile da quando è arrivato al potere, con un malumore che cresce tra le maglie della repressione poliziesca per una guerra che sta impoverendo la Russia e arriva persino a toccare i circoli nazionalisti a lui finora sempre fedeli, che si avvicini l'ora della profezia di Kasparov. Si celebra oggi in Italia la giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul COOM e promossa dall'associazione Gli Amici di Luca di Bologna per sensibilizzare l'opione Repubblica sui bisogni delle persone uscite dal COOM. Aggiunta la 24esima edizione è stata insegnata della medaglia del Presidente della Repubblica con l'alto patrocinio del Parlamento europeo. E tutto per ora, vi lascio al meteo, a terza pagina, all'ora solare, che oggi, scusate, c'è una notizia che è arrivata proprio adesso in redazione, allora Papa Francesco nominato vescovo della diocesi di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza trasferendolo dalla diocesi di Sessaurunca, Monsignor è nato il 4 ottobre 1953 a Solopaca nella diocesi di Cerreto Sanitatelese Sant'Attaca dei Goti. È davvero tutto per ora, grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi.